Il Comitato Battipaglia dice no interviene sulle indiscrezioni relative alla possibile localizzazione sul territorio di un sito di trasferenza in un'area nei pressi dello svincolo autostradale. Una decisione che potrebbe essere ufficializzata dalla Regione nei prossimi giorni e che ha già creato non pochi malumori in città. Di qui la presa di posizione del Comitato. Chiediamo che la Regione o tramite l'assessore all'ambiente o il Presidente stesso smentisca questa gravissima indiscrezione. Altrimenti, è l'annuncio del Comitato, apriremo una nuova fase di lotta e di mobilitazione che coinvolgerà l'intera cittadinanza. Alla quale chiediamo ufficialmente che si aggiunga l'amministrazione comunale con atti seri, veri, gravi, concreti e soprattutto immediati. La richiesta è che la Sindaca attui il blocco immediato di tutte le attività connesse col CDR, dal transito dei camion su tutto il territorio cittadino sino alla chiusura dell'impianto.